Arriva anche sul territorio piacentino l'infermiere di comunità, il professionista che promuove e tutela la salute della comunità. Presta la propria attività nel territorio con i cittadini, per i cittadini e le famiglie, in sinergia con le istituzioni e le risorse della collettività. Il servizio è già attivo nei comuni di Morfasso e Vernasch ed è completamente gratuito per la popolazione, grazie a un finanziamento del Fondo Strategia Nazionale per le aree interne. Di imminente attivazione anche l'infermiere di comunità in Valnura, Ponte dell'Oglio, Bettola, Farine e Ferriere. L'infermiere di comunità opera in collaborazione con altre figure, quali medico di famiglia, assistente sociale, infermieri domiciliari e altri specialisti con tutte le risorse formali e informali presenti sul territorio. I professionisti sanitari sono identificabili tramite automobile o mezzo con logo Hausl, divisa e tesserino identificativo. Noi riceviamo le segnalazioni dall'assistente sociale, dai medici di medicina generale, ma anche solamente dal paziente stesso o anche dai cittadini della comunità. Quando andiamo a domicilio i bisogni principali che riscontriamo sono sicuramente l'isolamento sociale e anche la gestione delle patologie croniche, per esempio un iperteso che ha bisogno del monitoraggio della pressione, che non sa come provarsela, oppure anche dei servizi di telemedicina, non sanno come utilizzarli e quindi gli diamo una mano, ma soprattutto anche di orientamento e di accessibilità ai servizi. I servizi che abbiamo sul nostro territorio sono tanti, sono molteplici e per evitare che la persona si perda tra tutti questi servizi li aiutiamo e li indirizziamo.